E' bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale AleGamer97 E oggi sono qui per portarvi un nuovo video Allora oggi sono qui per portarvi a Stalkings Porterò due partite, una o due partite per oggi E' dato che sto qua e vedete qua il mio microfono Ok, microfono Ok, aspettate un movimento Bello! Ok E stavo dicendo vi porterò questo gioco Decido portarvi perché? Perché me l'ha fatto scoprire mio cugino Che lo saluto, ciao Matteo E quindi mi è piaciuto come gioco Cioè già lo conoscevo come gioco Però non sapevo che era disponibile su PlayStation Store E quindi me l'ha fatto appunto vedere E ho deciso di acquistarlo Anche se adesso è gratis mi pare Quindi se andate su PlayStation Store dovrebbe essere gratis E' un bellissimo gioco, grafica, spettacolare E io questa qua potrebbe diventare diciamo una mini serie potrebbe diventare E dipende tutto dai vostri like Intanto, ok L'unica cosa è brutta che c'è a sto gioco è il caricamento Perché per trovare una partita ci mette 500 anni E stavo dicendo Andrà avanti questa mini serie diciamo Grazie ai vostri Ecco ha riuscito dalla partita Quindi in modo di cominciare Andrà avanti questa mini serie Grazie ai vostri like Quindi se lasciate tanti like E il più like che lasciate Più vedo che comunque sia Questo gioco vi può piacere Quindi lo portiamo avanti Anche perché ho visto ci sono anche dei tornei Cioè è possibile fare il torneo E è possibile fare la carriera Quindi magari in un prossimo video Vi porto o il torneo Vi porto o il torneo Oppure vi posso portare la carriera Vediamo un attimino Anche perché volevo iniziare Diciamo una mini serie Volevo iniziare Una mini serie Una serie che comprende vari giochi E quindi vari giochi Non lo so Insomma anche come intitolarla Adesso vedo un attimo Mi organizzo un attimo E quindi questo è quanto Adesso qua speriamo che qua carica E ha fatta? Sì ha fatto Siamo contro il tighty Siamo contro il tighty 1313 Ragazzi ma qui si incontra Gente che è veramente brava a giocare Io sono tipo 2 2-3 giorni che gioco Quindi non Sono alle prime armi Diciamo Adesso vediamo un po' come va Come va questa partita Ragazzi Allora Dai io supero Ne ho mica posso stare qua Aspettate A te eh Ti sbrighi Mamma mia Rega io odio Odio la gente qua Tutto il gioco Rega io odio la gente Che sta sempre a mettere il gesso Sempre Ho incontrato una Una partita Che ogni tiro che faceva Usava il gesso Cioè Che io posso dobbio Magari in verità O poi Ma sul gioco Ma no Cioè Dai Questa tutta Ha bucato Già la prima Ma non ha bucato Io quando faccio le battute Invece di imbucare la palla Mi imbuco quella bianca Eh rega Mi cazzo tutti esperti Allo Nave Su 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 Un Due Tre Un Oh Ma hai rotto il cazzo Ti sbuovi Oh no rega Ne è possibile Ma faccio Muoviti Te lancio qualcosa Te lo dico Sopra lanciò qualcosa Aspettate le occhiali Ma te la lanciò Sopra lanciò Qualcosa Guarda Pallino imbuca A me Cioè Mi ha fatto aspettare Mezz'ora Per imbucare il pallino Mamma mia Ricamoscio Dio Il vero campione Il vero campione La prima mossa BOOM 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 Tanti rai Tanti rai Che sono questo Corpo Che ragazzi Anche questa Le famo Le famo Questa Una noscialanza Di quelle pazzesche Guardare Guardare No Fermati No Regà Cioè Mi sono andata A chiudere tutto Mi tipo Un po' Sto muove Tipo Evvimi Guarda Regà Te faccio Questa Questa Penso Me ne vado E io che faccio Questa Voglio 20 like Conbucato Ho Unbucato Qualcosa Non so Cosa Ah bene Ok Ho Unbucato Una tua Grazie 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 Ah ma c'ha un microfono Pure lui Lo sapete Aspettate un po' Perché io c'ho un microfono Cuffi Oh bello Che mi senti Bello Come sta a senti Ciao bello Oh sto registrati Io penso su youtube Me sta a senti Bu Riga questo non sente Vabbè riga Devo a me Utilizziamolo come microfono Ciao bella Questo non me sente Riga ma Che cazzo Bu Cazzo attacchi a fare Microfono Bu Ah capisco Mi capisco Ah ma Cazzo Con due porco Staccavo il microfono Bello riga Per colpo Andiamo così Andiamo così A vincere questa partita Verso l'infinito E altre Mamma mia riga So i story riga Ma ne vogliamo parlare Mamma mia Penso che quel cartone Riga ha fatto proprio Riga io ci provo Sono matto riga ci provo Mamma mia Cosa ho fatto Cosa ho fatto Riga Proprio fiero E beh riga Ero proprio fiero Riga Ci ho fatto Qua mossa Riga Fermi tutti Questa così Entrambuca Riga Questa così Entrambuca No No riga Tipo di poco Tipo di troppo poco Riga Proprio troppo 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 poco Mancava Tanto così Mancava Oh E dai però Mica sto qua a perdere tempo Per te Ancora Tre ore Ci metti Per tirare una palla Oh Porca Eva Oh Ma mi ha staccato il microfono No riga Non ci credo Ma che ha deciso questo Deve fare Un'i3x2 Oh Ah che co Mi senti Dai ci ho fatto Tu buco Riga Ma culato Ok Mi sento Per chi Qua non mi sento E vabbè Eh Che te lo dì Cioè non mi senti Devi fare un microfono Che non io funziona Senti Te sbrighi Per favore Ti smuovi Vabbè riga Se vediamo Alla prossima Ecco Ah vedi Ti ho tornato Ha tirato Meno male Ti l'ha fatta Ma che ha ambocato Ma io non ci credo Ha ambocato Oh no Non finisce più di giocare Non finisce più di giocare Oh Non ti tiro Non te lo comando a presto E non ti tiro Oh No Riga non ci voglio Credi Ti sbrighi Va ambocato 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 Si ragazzi Si 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 toccano Si toccano Si toccano Ma io che do ambocato Quelle piene Guardate ora come si fa Così La gamba Eccolo Così raga Le fa così Mamma mia La in buca La in buca Ragazzi Ragazzi anche questa E nooo Troppo forte Ma questo Buon bucando vuole Bisogna vedere ora il computer Dove Cioè Dove li da La buca da fare E mi sa che è proprio quella infatti E darò la buca davanti E vabbè Mi sa che Se la siamo presa in der cola Eh si Se la siamo presa in der culor E vabbè Finirà così Andiamo perso Ai 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 Andrà male Molto male raga Per noi Tutto proprio raga Va bene ragazzi Allora io direi che Il video di oggi Può finire qui E' stata una partita Ma è stata Una partita abbastanza lunga Quindi ragazzi Direi che Il video di oggi Può finire qui Se il video ti è piaciuto Tanti pollicioni su E vi ricordo di Lasciare un like Commentare Se magari vi può piacere Questa miniserie E Condividere il video Iscrivervi al canale E Sotto In descrizione Troverete anche Un altro Il link del canale Dove io Sono con un mio amico O un canale con un mio amico E Quindi ragazzi Vi ringrazio Adesso ho quant'altro Qua mi sta a fare Aggiungere le statistiche Ok A posto Ci siamo arrivati Oh ma i caricamenti Ok ecco E magari alla prossima Possiamo farci un'altra partita O anche un torneo Diciamo Ma addirittura Possiamo andarci a fare La Aspettate che Ma ci vedete La carriera Eccola qua Ok ragazzi Quindi allora Io Vi saluto Tanti pollicioni su Vi ricordo Quindi ragazzi Il prossimo episodio Non lo so Adesso vediamo un attimo Mi organizzo un attimo Un po' con i video E quindi ragazzi Vi saluto Ci becchiamo Alla prossima Come sempre Bella a tutti Bella a tutti Ecco Ciao 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 Ciao